Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovati con il consueto appuntamento del Tg Mattino di TRG con la nostra prima pagina per vedere in circa mezz'ora le principali news dalla Regione, quelle di oggi, mercoledì 3 luglio 2024. E allora partiamo subito con il Corriere dell'Umbria in apertura, il centro-sinistra che cerca l'alternativa a Proietti. Andiamo evidentemente verso le regionali, la possibile candidata non scioglie ancora la riserva e si studia un piano B. Se il centro-destra prepara l'exit strategi rispetto alla ricandidatura al momento blindata da Roma di Donatella Tesei, anche nel centro-sinistra si lavora ad un piano B alternativo alla discesa in campo della sindaca di Assisi e presidente della provincia di Perugia Stefania Proietti. Anche perché quest'ultima, si legge con il Corriere, non ha sciolto ancora le riserve nonostante non abbia mai detto di no, ma sembra ormai sfumata la possibilità di sfruttare la scia della vittoria di Perugia dove soprattutto il nome e il profilo di Vittoria Ferdinandi sono risultati vincenti. In fotonotizia invece con il Corriere parliamo del Pozzo delle Meraviglie, 30 Indiana Jones sulle tracce del Fanum Celeste degli Etruschi. Un pozzo che si trova nel sito di Campo della Fiera e ha già restituito 900 brocche etrusche. Dal taglio in basso Perugia, venerdì sit-in di protesta dei tifosi del Grifo, i supporter contro la società. Da Terni invece cardiologo purtroppo muore mentre visita paziente. Inutili i soccorsi per l'uomo che ha avuto un malore. Ma vediamo anche il dorso regionale del messaggero. Strade, 10 giorni di cantieri. Lungo il raccordo Perugia-Bettolle, lavori in notturna fra Olmo e Madonna Alta. Da oggi interventi in E45 a Montone e sulla SS318 tra Valfabbrica e Casa Castalda. In fotonotizia, Frenchi High Energy a Perugia. Domani tutti a ballare. Il rapper sarà ospite speciale a Ram Festival. E poi la cronaca. Folle armato di macete e panico in centro a Perugia. Spacciatore aggredisce barista in via Rocchi, preso in piazza Morlacchi. In basso i super tartufi per finanziare la ricerca. Siamo a Città di Castello. L'iniziativa di solidarietà di due promotori, di cui parleremo fra non molto. Ma vediamo anche il dorso regionale della nazione, vice e assessore. Le mosse di Vittoria. Siamo a Perugia. La sindaca potrebbe scegliere un esterno. E per l'innovazione si fa il nome di Andrea Stafisso. In fotonotizia invece, ultime repliche. Il processo si chiude. Parliamo di concorzopoli. L'atto finale. Oggi il primo collegio si ritira in camera di consiglio per decidere. Fra gli imputati anche Bocci e Marini. E poi il report di Aura. L'agenzia Umbra ricerca i dati che non ti aspetti. Un export di ferro e anche di ghisa. Principalmente trai nel settore del metallo. L'economia Umbra però è portata avanti per quanto riguarda l'export. Anche da altri settori. Il punto di Aur di cui approfondiremo fra poco. Al Santa Maria degli Angeli nel Cimitero Nuovo. Un'area dedicata ai defunti islamici. E poi da Terni finalmente l'ospedale avrà l'elisoccorso aperto il cantiere. Leggiamo qualche notizia con il messaggero sempre dall'Umbria. E poi passiamo agli altri giornali. I mali di stagione. Come difendersi dal freddo artificiale. In ufficio, nei negozi oppure in casa. I rischi sono più alti perché soffre già di dolori. Andrea Cascianelli, esperto osteopata, dice che occorre usare solo la giusta temperatura. L'utilizzo dei macchinari senza una misura può provocare mal di schiena o del cervicale. Poi come detto il processo di cui parla anche il messaggero a 5 anni e 3 mesi dagli arresti che hanno terremotato la sanità e la politica in Umbria. E' attesa per questa mattina la prima sentenza del processo Concorsopoli che vede imputate 30 persone tra politici, medici, dirigenti per reati come abuso e rivelazione dei segreti d'ufficio per i presunti concorsi pilotati in sanità. Ma si parla anche di trasporti e logistica con il messaggero impennata di occupati. Oltre il 12% in 5 anni. Nonostante la forte emissione di forze nuove servono comunque altri autisti. E' un profilo professionale che manca sempre di più. Le imprese sono più robuste anche grazie alle scelte sempre più green. E poi invece in basso produttore e consumatore sotto lo stesso tetto. La prima food cooperativa dell'Umbria. Partecipazione, autogestione, cooperazione. Un negozio che prevede la collaborazione fattiva di produttori e consumatori riuniti da una visione di progetti comuni. Venerdì in via Viragua, Perugia, presso la libreria Pop-up, ci sarà il primo di una serie di incontri di presentazione e di coprogettazione di questa prima food cop dell'Umbria. Ma andiamo avanti e parliamo anche di formazione. All'ITS Umbria Academy, mille allievi in formazione. 9 su 10 vengono subito assunti. L'Accademia Umbra è ormai diventata un'eccellenza nel panorama nazionale della formazione terziaria. Il presidente Marco Giulietti dice crediamo moltissimo nel potenziale positivo dell'istituto. Andiamo avanti anche con il Corriere dell'Umbria per sfogliare le varie pagine dalla regione. Nel centro-sinistra non solo proietti, c'è un piano B. La sindaca di Assisi non ha sciolto, come detto, ancora le riserve. Sfuma l'effetto traino di Perugia. AVS apptendista. Pace e terra dignità auspica un nome più radicale sul modello Ferdinandi, ma si profila anche un alto livello istituzionale. sindaci di centro-destra uniti, costituito il coordinamento, entro questo mese la proclamazione degli stati generali. Prima riunione nella città governata da Antonino Ruggiano, vale a dire Todi. E poi c'è la polemica strumentalizzazione dei flussi su Foligno. Ad alimentarla è il botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e Bracalente, proprio da Foligno. Sovrintendenza con la cultura non si mangia, questo è un altro titolo del Corriere. Stipendi troppo bassi tra i motivi della rinuncia al posto statale in area MIC. Il 50% degli donne dice no. Archivisti, bibliotecari, storici dell'arte, informatici e vigilanza, manca la metà del personale. Anche il Corriere riporta il successo di ETS Umbria Academy. 39 corsi con quasi 1000 allievi. Assemblea Perugia sulla formazione terziaria come strumento per affrontare il divario tra domanda e offerta di lavoro. Come detto, 9 su 10 dopo l'ETS trovano impiego. E poi l'intervista a Stefano Lazzari. Sogno di ricreare un museo itinerante. Il titolare della bottega Tifernate che incanta il mondo con le pittografie, si è raccontato nel nostro lavoro. Ha detto ci vogliono passione, sacrificio, ricerca continua. Abbiamo il compito di mantenere in vita le coscienze acquisite. Diamo uno sguardo anche alla Nazione. Alcune delle notizie in primo piano dall'Umbria. Ferro e ghisa super l'export train alle città. Sono 5 le più attive. Lo dice questo nuovo report dell'Agenzia Umbria Ricerche promosso da Andrea Crippa. In un anno il valore delle merce esportate ha superato i 5,8 miliardi di euro per un'incidenza pari al 24% sul PIL regionale. Le prime 500 imprese per valori di merce esportate ricoprono oltre il 96% delle esportazioni totali. Quindi poi c'è un restante 4% che invece di quelle attività che esportano sempre fuori dall'Italia. E poi tra i comuni più attivi c'è certamente quello di Terni che è il primato per quanto riguarda i metalli ma anche Corciano, Perugia Corciano soprattutto per il settore dell'abbigliamento e del tessile Umberti del città di Castello per quello che riguarda i macchinari e le cosiddette apparecchiature NCA questi dunque i principali territori per valori di merce esportate ricoprendo cumulativamente circa il 60,9% delle esportazioni regionali. Invece Montefranco, Costacciaro, Lisciano Niccone, Ferentillo e Gualdo Cattaneo sono i comuni dove all'interno del nostro campione, spiega Crippa registriamo i valori di export più modesti corrispondenti a poco meno di 2,6 milioni di euro. Intanto cambiando argomento aumentano i costi degli affitti a Perugia Terni invece non corre. I dati del gruppo Tecnocasa dicono che nel primo semestre di quest'anno il prezzo di un bilocale è salito al più 6,3%. Assistenza per celiaci venendo alla sanità è stato fatto un primo passo concreto a dirlo il presidente Rossi e il direttivo di AIC perché c'è stata una novità per quanto riguarda una delibera un'approvazione di una delibera della giunta regionale grazie alla quale si realizzerà una completa digitalizzazione delle operazioni attinenti all'acquisto dei prodotti senza glutine a livello sanitario. E a proposito di sanità l'Alt di Coletto l'assessore regionale non creare allarmismi dice dai dati del rapporto Crea l'Umbria ha recuperato. Andiamo ancora avanti Vice esterno, innovazione sta fisso giunta le mosse della sindaca siamo a Perugia al Partito Democratico oltre anche la preside del Consiglio Comunale in AWS, derby, falistocco e vossi. Mercato coperto far chiarezza sulla situazione così Tommaso Bori del Partito Democratico mentre il grido dell'Assemblea dei lavoratori del settore in Umbria organizzata da FPCGL beni culturali, la carenza di organico adesso ha proporzioni allarmanti. Veniamo ora alle notizie dalle città dell'Umbria siamo al messaggero a Perugia giunta a Ferdinandi lo abbiamo appena detto il PD chiede tre assessori spunta un nuovo direttore generale collegamento tra via Sicilia e via del Fosso è stata riaperta la pista ciclopedonale a Fontivegge il monumento mezzo milione per San Bevignate c'è chi curerà la progettazione di questo monumento solidarietà, avanti tutta dona attrezzature e arredi al reparto di oncologia per l'ambiente l'ordinanza antincendi scattano le regole per tutta l'estate ha in mano un macete paura in piazza Morlacchi questo per la cronaca da Perugia la polizia denuncia un 22enne tunisino decisive le segnalazioni dei cittadini poco prima aveva creato il panico in via Rocchi e ferito un barista con lo spray al peperoncino la storia volo da sette piani ragazzo fuori pericolo ma si indaga parliamo di questo ragazzo di 22 anni che è precipitato dal settimo piano di un appartamento di Ellera in cui viveva insieme un amico il fatto è successo alle 5 di lunedì mattina il giovane ora fortunatamente viene considerato fuori pericolo dal personale sanitario di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia l'inchiesta stuprata a 18 anni convinta dallo zio a salire in casa per paura di aggressioni oggi a capanne 69enne e 34enne davanti al giudice uno nega rapporti per l'altro sono stati consenzienti altra inchiesta hashish e cocaina dalla Spagna indagato magionese di 57 anni e poi condannato a pagare una multa atti osceni in terrazzo e però il fatto non sfugge alla vicina che ha prontamente segnalato strade 10 giorni di lavori e di chiusure ecco i punti critici lungo il raccordo cantieri notturni tra Olmo e Madonna Alta interventi in E45 a Montone sulla 318 tra Valfabbrica e Casa Castalda oggi invece a Guadutadino l'addio a Katia Calisti la cantante è deceduta purtroppo il 22 giugno a seguito di un drammatico incidente lungo la Flaminia che aveva visto anche il ferimento di due donne che si trovavano a bordo dell'altra vettura rimasta coinvolta nel sinistro i funerali di Katia Calisti saranno celebrati alle 16 di oggi nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio al termine del rito la salma verrà tumulata nel cimitero di San Facondino ci spostiamo a Città di Castello per un progetto nonni e nipoti negli orti a coltivare i pomodori un bel progetto di inclusione sempre Città di Castello anche i supercontrolli contro furti e spaccio identificate 179 persone e monitorati 104 veicoli a Todi uffici della polizia locale e chiusi agenti in servizio per un concorso il caso proprio dalla città di Jacopone a Foligno invece o più nel dettaglio a Cascia operaio ferito nuova versione dei colleghi era in stato confusionale in un primo momento avevano riferito agli inquirenti di un incidente domestico la procura ora convaliderà il sequestro del cantiere per svolgere tutti gli accertamenti del caso dal palazzo a Foligno Partito Democratico e Movimento 5 Stelle promuovono il patto avanti proposta innovativa dicono e messaggio chiaro il sindaco Zuccarini invece stringe sulla nuova giunta per la presidenza del consiglio Polli o Calligari andiamo a Terni per i residenti del centro in arrivo 300 posti auto l'annuncio del sindaco Bandecchi presto verranno posizionati i cartelli l'assessore Marco Iapadre commenta concluso il censimento siamo pronti ad intervenire al Santa Maria invece sono partiti i lavori per la nuova elisuperficie parliamo ovviamente dell'ospedale l'intervento prevede anche l'installazione di luci per permettere l'uso durante le ore notturne e per l'informazione Ciarulli chiude ma non perdete l'abitudine di leggere i giornali ultimi giorni di lavoro per l'edicolante che saluta i suoi clienti dice più di 60 anni di lavoro in questa edicola mio e della mia famiglia credete nella carta stampata andiamo ancora avanti a Terni ciclabile da 2 milioni interrotta dal fiume Nera tra Terni e Narni tratto spezzato da un guado spesso coperto dall'acqua chi vuole passare in bici o a piedi è costretto a tornare indietro o a passare per altre vie per vie alternative imprenditore ucciso con il macete oggi l'autopsia parliamo dell'imprenditore il quarantenne spoletino deceduto dopo purtroppo 100 giorni di agonia per le lesioni riportate dopo l'aggressione nel piazzale della sua azienda di via natta per il turismo il centro espositivo di Collestate inaugurato e poi chiuso di nuovo malgrado la vicinanza con la cascata le porte della struttura restano sbarrate e poi Blitz Ultras Rosso Verde sorpreso con la coca in casa è stato arrestato vediamo anche le notizie dalle varie città dell'Umbria con il Corriere partendo come di consueto dal capoluogo e siamo a Perugia si parla di politica in primo piano con la stretta sulla giunta il Tris di Apicali al Partito Democratico terminato il secondo giro di consultazioni a Palazzo dei Priori i nomi sono quelli che abbiamo detto finora e poi lo scontro bori fora sul mercato coperto dopo l'atto ispettivo del Partito Democratico interviene anche il consigliere dei civici per stuprato da vesti e senza scrupoli parla la vittima della violenza sessuale dice sapevano che ero vergine in transizione forse lo hanno fatto per morbosità centro storico minaccia la titolare di un barra con il macete la polizia denuncia un 22enne tunisino spaccio internazionale di droga un indagato anche a Perugia nella max inchiesta del Rosse coinvolta anche un uomo residente in provincia a De Rute è stato fermato un altro ricercato aeroporto sosta più facile concerti davanti al terminal entra in funzione il telepass i parcheggi si ampliano e poi arriva anche un nuovo store un nuovo negozio davanti tutto aiuti per migliorare il comfort nel reparto di oncologia a Perugia sport, giochi e laboratori l'estate dei bambini delle scuole diocesane tante attività dirette ai bambini d'età compresa tra i 18 mesi e i 6 anni cinema dell'anima serata con Brigitte Bardot Forever prima visione dell'opera del regista polacco Majewski sulle orme di un giovane telemaco terza giornata della rassegna diretta da Alberto Di Giglio in corso al capitolo della cattedrale andiamo ancora avanti siamo a Magione d'Arsena interrata e pesci morti ordinanza urgente del sindaco la Getty ha chiesto interventi all'Unione dei Comuni per poter bonificare l'area a Panicale grande successo per la seconda edizione di Essere Insieme mentre spostandoci su Assisi c'è il cambio festival che torna a Palazzo 5.20 fino a domenica dopo il debutto al lavandetto di Castelnuovo la Kermess da stasera sarà nella sua storica location ad Assisi ancora tartaruga trovata e messa in salvo da un turista è diventata la mascotte dello yacht a Bettona venerdì uno spettacolo previsto alle 21.30 sarà rappresentata una versione integrale di un'opera molto nota e poi da Bastia Umbra contributi per le iniziative dal Comune praticamente per le iniziative gli eventi artistici musicali ci sono dei contributi per poter realizzare gli eventi a Todi inaugurato il Parco degli Olivi intervento da 181.000 euro a Torgiano risate a cielo aperto così la Croce Rossa avrà un nuovo defibrillatore a Marciano ancora via alle iscrizioni per la mensa scolastica a Torgiano Richard di San Marsano in mostra al Muvit a Città di Castello i controlli della polizia hanno identificato 179 persone e poi la cronaca investito in bici a 80 anni scontro all'uscita della rampa della E45 allo svincolo di via della Bastiglia è il secondo incidente che si è verificato nel giro di due giorni l'anziano è stato trasportato in ospedale ha riportato una serie di frattore ancora da Città di Castello concerti e visite guidate per festeggiare i 112 anni della Pinacoteca la bella storia degli orti solidali questo progetto di inclusione a Madonna del Latte che unisce anziani ragazzi con disabilità traggono i frutti della terra grazie a condivisione scambio intergenerazionale le letture Rossita Placidi presenta noi alla rassegna del Circolo del Libro sempre a Città di Castello e la squadra di pallavolo maschile che è stata accolta in comune andiamo ancora avanti dall'Alta Umbria a Pietralunga una cena di beneficenza con due maxi tartufi l'idea di Giuliano Martinelli ricavato sarà donato alla ricerca contro il cancro mai coinvolto anche Giacomo Becchetti con due maxi tartufi da oltre un chilo ad Umberti ed Armando Fettolini 40 anni di arte in mostra alla Rocca a Montone doppio senso di marcia e svincolo chiuso sulla E45 ancora con il Corriere a Gubbio vicenda piscina comunale il sindaco ha la soluzione la prossima settimana riapre la vasca interna entro il 31 luglio quella esterna e poi sulla giunta invece Fiorucci è duro e dice non ho deciso leggo tanti nomi alla rinfusa il primo consiglio è previsto per mercoledì 17 luglio a Gubbio iscrizioni aperte per i servizi di mensa e di trasporto e i lavori in piazza 40 Martiri un altro step cambia la circolazione dell'area interventi sulla viabilità anche nell'area di San Pietro ad Assisi a Gubbio scusate a Ponte Dassi è una frazione rimasta al buio per ore guasto alla centralina elettrica siamo a Gualdotadino un'estate di appuntamenti è stato presentato il cartellone degli eventi si parte sabato con lo spettacolo di Dario Vergassola alla Roccaflea ancora da Gualdo l'Inter Club ha celebrato i primi 40 anni a Fossato di Vico si ricordano le vittime delle stragi nazifasciste domani la cerimonia e poi oggi invece a Gualdo anche l'ultimo saluto a Katia Calisti funerali della cantante alle ore 16 nella chiesa Santa Madre di Dio a Foligno pochi rebus sui nuovi assessori conferma in vista per quattro uscenti tra i possibili ingressi prendono quota i nomi di Leoni Schiarea e Presilla a lezione con Pellerucci per scoprire i segreti di una nuova leadership siamo sempre a Foligno domani alle 18 in punto all'auditorium di Edotto sviluppo umbri imprese strumenti per la crescita è stato fatto il punto dalla presidente Sciurpa il grande ciclismo che torna in città la Carovana Rosa arriverà in Viale Mezzetti nel 2025 col fiorito ospiterà la Tirreno Adriatico e poi l'allarme i negozi vuoti è sempre pieni di rifiuti tuonano alcuni residenti del centro che dicono è una brutta immagine agli occhi dei visitatori a Montefalco sbandieratori e musici da tutta Italia per la parata della bandiera a Spoleto gli scarti diventano capi parla Fabiana Giacomotti ideatrice del laboratorio del sogno dopo i guanti sarà protagonista la maschera a Spoleto ancora entra in scena alle 20 Fricks capolavoro ambientato in un cerco al regista Damiano Micheletto il premio fondazione Carispo spacciatore tenta la fuga rintracciato e arrestato siamo sempre nella città del Festival dei Due Mondi aveva provocato un incidente prima di finire nella rete dei carabinieri per possesso di cocaina a Cascia dopo i sigilli al campiere finisce sotto sequestro il capannone della ditta dove si è verificato un incidente sul lavoro intanto migliorano le condizioni del muratore a Spoleto riqualificazione della pista di atletica arrivano 700 mila euro a Precci invece avanti senza ostacoli con la ricostruzione pubblica firmati dal commissario Castelli i decreti a favore del comune per quanto concerne i lavori alla palestra nella frazione di Abeto andiamo a Terni allarme furti a Sant'Agnese raid vandalici spaccate spaccio di droga ma la petizione dei residenti finora è rimasta senza risposta è lì soccorso in ospedale via libera al cantiere al Santa Maria di Terni consigli utili per evitare le truffe online polizia di stato e Airbnb invitano i cittadini a tenere gli occhi aperti su questo fenomeno sempre più crescente c'è l'accordo da un milione sui rifiuti è la cifra che Palazzo Spada incasserà mentre si estinguerà il giudizio davanti alla Cassazione e poi arrestato un giovane con la droga in tasca e a casa è un 33enne ternano la cronaca muore purtroppo mentre visita un paziente il cardiologo Giovanni Giannini è stato stroncato da un malore a 66 anni nel suo ambulatorio il medico aveva lavorato in ospedale e dopo la pensione aveva continuato come libero professionista Roviglioni è il presidente dell'Inner Will l'ingegnere ricopre anche la prestigiosa carica di assistente del governatore all'interno del Rotary campi estivi gratuiti inclusivi organizzati da Integramente siamo sempre eterni andranno avanti fino al prossimo 6 settembre ad Orviete invece alla scoperta del Fanum Celeste archeologi di nuovo al lavoro da lunedì 24 da lunedì per la 24esima campagna di scavi a Campo della Fiera gli studi si concentrano sul santuario federale degli Etruschi e il Pozzo delle Meraviglie che ha già restituito 900 brocche ad Amelia taglio del nastro per la piscina dedicata a Bud Spencer a Narni arriva la stangata per le bollette della tarifa sui rifiuti previsti rincari di oltre 7 punti percentuali il comune costretto a recepire gli aumenti fissati dall'autority voltiamo pagina sempre con il Corriere dell'Umbria per parlare di sport a Perugia il sit-in di protesta dei tifosi che si ritrovano venerdì davanti alla sede no a Santo Padre e agli abbonamenti i supporter bianco-rossi dicono terra bruciata intorno a chi antepone i suoi interessi personali a quelli della maglia Fere invece sarà un girone nobile tante le squadre blasonate al via del prossimo campionato la classifica delle società più titolate in 7 hanno giocato in A la Ternana è al sesto posto con due partecipazioni l'ultima nel 74-75 viaggio tra i 20 team del gruppo B Perugia sul terzo gradino del podio Gubbio dodicesimo serie B femminile bomber bonetti alla corte di Melillo l'ex inter in rosso verde per lei 220 gol in A e in 386 presenze Gubbio calcio serie C notari dice il DS è motivato il presidente spiega la scelta di degli esposti e dice è giovane e voglioso arbitri bianchini promosso in A l'assistente perugino sbarca in Cannes il fischietto di Fernate Dini invece vola in serie C i verdetti dell'Aia in Umbria festa per 10 in 5 in D passeri da record 17esimo anno al top in eccellenza città di Castello ascolta conto saremo pronti per il 29 luglio il DS a 29 anni si presenta e dice al completo per la preparazione a Palazzo del Pero per il mercato da Perugia ufficiale Sorbelli sarà a Foligno per il volley Ishikawa che fa sognare la Sir il bianconero ha guidato il Giappone alla sua prima finale di WNL con 64 punti in 3 match prestazioni mostre con Canada Slovenia e Francia coach Lorenzetti pensa alle soluzioni atletica leggera Umbria straripanti agli italiani master a Roma gli atleti dell'Atlon Bastia conquistano 12 medagli e prova di ferro quella di Mosciotti oro negli 800 metri automodellismo da Gubbio al mini autodromo Mario Rosati bronzo per Menichetti per il motociclismo motorelli ride TT a Foligno nella polvere ok Meo e Polidoro i due piloti del CDP Entrophy Rally Team secondi in G1000 e GPX ancora volley a 1 femminile Perugia al centro la carica di Grica presa la 2003 Polacca Ex Lotz obiettivi ambiziosi ha detto il roster della Bartocine Fortenfissi è dunque al completo per il Karate Lupatelli di Ferro in Croazia chiude la Youth League con un ottimo settimo posto per l'automobilismo carta San Giustino trofeo a Diamantini con Leo Gubino che recupera e vince dopo una penalizzazione a inizio gara da Città di Castello l'automobilismo Battistoni passione e talento ora i mondiali in Inghilterra noi chiudiamo questa prima pagina ma non il nostro TG Mattino che torna come di consueto con la nostra rassegna stampa approfondita subito dopo la pubblicità Grazie a tutti